E' un paziente dove se l'occhio è inesperto non vede tante cose qua che sono da denuncia. La prima sono intanto, vedete qua, un impianto dentale connesso con una radice naturale. Perché non si può fare questo? Perché la radice naturale qua è uno spazio nero, questa linea nera, che è il legamento parodontale, un ammortizzatore. I denti, perché sentiamo un cappello tra i denti? Perché quel dente quando mordiamo si muove leggermente, stira le fibre e dà il feedback al cervello che si è mosso. E quindi abbiamo la propriocezione, si chiama la tattilità. Questo movimento, in più se l'osso si ritira, l'osso stava qua e si è ritirato qua, il dente muove di più. Se il dente muove di più, questa è una leva che da qualche parte scarica, o si rompe qua, o si rompe qua, o si stacca qua, o peggio si rompe la vite. Può succedere anche che si rompe la vite. Questa è una vite monoblocco degli anni 70, queste sono viti di garbaccio, si chiamano, sono i primi impianti che venivano fatti questi. Non sono monofasici, significa che è un unico chiodo avvitato. Sopra si incolla il ponte. Questo non ha all'interno la connessione, la vite, che serve invece ad attaccare multi unit abatment. Qua gli sono stati messi impianti dentali a livello della gengiva. E questo non va mai fatto su un paziente che perderà i denti. Questo è un paziente che aveva una parodontite, non devi mettere quei tipi di impianti. Ci sono due tipologie di impianti, questa bone level e gummy level, tissue level si chiamano. Questa è la gengiva, tessuto gengivale. La disegniamo bene la gengiva, facciamo così. La gengiva in genere è festonata, tu perdi, sopra c'hai un dente, qua un dente qui, qua, qua e qua. Ok, vedete bene. Un impianto, una vite che sta qua, queste sono le spire dell'impianto, e c'è un impianto a livello con l'osso. Bone, si dice in inglese osso, bone level, a livello dell'osso. Per esempio, un impianto qua a livello dell'osso è questo. La vite finisce qua. Questo è un impianto bone level. Quando un paziente perderà tutti i denti, bisogna usare questi, gli impianti, perché sopra questi posso montare i multi unit abatment, che sono gli snodi che permettono di unire tra loro molti impianti. Se io perdo un solo dente, posso usare invece, come in questo caso, in realtà un impianto che fuoriesce qua, col colletto, a livello della gengiva. Tissue level, si chiama, a livello tissutale, che sarebbe il primo qua sotto. Questo qua è un tissue level. Esce dall'osso, la spira finisce a livello dell'osso, poi va oltre, qua c'è la gengiva in realtà dove c'è il nero, e qua esce questo. Perché ha fatto l'errore? Perché ha fatto l'errore qua? Perché aveva già perso altri impianti, altri denti, tantissimi denti. E questi sono gli ultimi denti che hanno messo. Perché sono gli ultimi denti che hanno messo? Perché sopra non c'hanno niente. Non è che non c'hanno niente, c'hai i denti provvisori. Quindi se c'hai i provvisori sono gli ultimi che hai fatto. Chi te li ha messi gli ultimi? Ti ha messo degli strauman costosi, rubandoti i soldi. Perché te li ha messi con l'ottica non di curare la foresta, ma di curare l'albero. Ti metto questa zona. Ma la realtà è che ora questi impianti sono in perimplantite. Stai perdendo l'osso. Qua sta perdendo osso. Qui ha perimplantite diffusa. Dovrò svitare via tutti gli impianti, carottare via questi impianti, carottare lì. Ricostruttiva ossea. Dopo la ricostruttiva ossea si parlerà dopo sei mesi di iniziare a pianificare dove mettere gli impianti. Questa è una chirurgia terziaria? Sì, è complicata. Molto complicata. Ma tu era semplice. Questo è come il naso di Michael Jackson. Ok, qua è stata fatta una chirurgia già fatta male, un'altra fatta male, un'altra fatta male. Ora siamo a livello di chirurgia terziaria. È probabile qua che dovremmo fare ricostruttiva ossea con blocchi, con prelievi. Quindi, chirurgia molto più avanzata questa. Ma perché si arriva in questo stadio? Torniamo a Valanga, da dove è iniziata la storia. E poi chi è intervenuto magari ha dovuto ottenere fede a un preventivo fatto a distanza. Io ti ho fatto un preventivo a distanza, non volevo la recensione negativa su Facebook. Ti faccio quello che ti ho detto a distanza. Noi pazienti così non li curiamo, perché poi sono dei boomerang, girano le nostre radiografie di cose del genere. Io invece potrei ora farmi dire chi è che ti ha fatto queste cose. Non direi il falso, non direi. Direi semplicemente, fate attenzione, che i piani curati a tappare un buco poi si danneggia dal punto di vista biologico il paziente e si ritrova veramente sfregiato, che rischia anche di non poter fare granché qua. Fortunatamente ne ha messi pochi da questo lato, posso mettere un impianto qua, uno qua e uno qua. Svito questi, bypasso, svito tutti questi, ricostruzione e poi metterò altri tre impianti qua. Estrazione strategica di questo e metto un impianto nella zona retromolare. E mi sfrutto quell'osso che è stato mantenuto dal dente del giudizio. Non ha senso. In Europa, noi in Italia. Ho un'amica che è stata a fare i detti da professore e anche professore universitario allo studio vicino da me e ha dato non so quanti soldi per testa con la cittiera, giovane. Perché una vita impura, così una volta uno, un altro pezzo, un altro pezzo. Quando ci chiedono noi, mi fate avere un preventivo a distanza? No, ma io voglio il preventivo, poi decido. Il preventivo non esiste a distanza, se non fai la diagnosi. Viene poi da noi esattamente, vediamo quello che c'è da fare, il gioco. Ma intanto, quello è un primo filtro. Perché io devo perdere tempo con una persona che crede a Babbo Natale? Noi vogliamo lavorare con pazienti che sono un po' più seri, che capiscono che il problema è serio e va affrontato in maniera seria. Non stai al mercato a comprare zucchine. Perché stiamo qua a risolvere problemi molto gravi, dove prima di tutto bisogna fare una diagnosi corretta, raccogliere i dati in prima persona. La verità è che un preventivo finale neanche si può fare al primo viaggio, perché non sapremo come guarire all'osso, quanti impianti rimarranno, quanti invece ne perderemo. Ci abbiamo in linea di massima, noi come obbligo, quello di fare tutte le cure, fare più anche di quello che serve, leggermente tagliamo un po' più largo e mettiamo più impianti di quelli anche che servirebbero. Perché se c'è un imprevisto, il paziente comunque esce dal labirinto. Se invece partiamo con poche cose, molto risicate, è difficile poi fare scelte differenti. Ma è meglio togliere dal preventivo che aggiungere. Se il paziente non può partire con quel preventivo, meglio che neanche inizia, perché se no c'è il rischio di avere un vicolo cieco. Come questo ci è finito magari diverse volte. Ora si rivolge magari all'estero a noi, perché ha iniziato a documentarsi tanto, ha iniziato a cercare dei centri di chirurgia terziaria, che fanno quindi zigomatici, che fanno magari ptericoidei, impianti che sono un pochino non convenzionali, che vengono dopo, però quelli non ci arrivi per esempio con il volantino di una catena franchising. Ricordate che i franchising non fanno chirurgie terziarie. Loro fanno pulizie, ponti, ponticelli, si fermano a un certo tipo di lavori. Non vanno oltre. Per questi è come dire, c'è un franchising di centri trappianti di fegato. Centri trappianti di fegato sono pochi in Europa, sono quelli. Puoi fare un franchising in ogni città, un centro trappianti? Perché non c'è la richiesta, non sostieni. Non ci sarebbe la richiesta del servizio. C'è più richiesta della pulizia dei denti, della capsula, della devitalizzazione. Il ticket medio di un franchising famoso è 2.600 euro. Era nel 2012, 2.600, 2.700 in Italia. Cosa è 2.600, 2.700 euro in Italia? Un ponte di tre denti, quattro. Quello ti dice qual è il ticket medio, la tipologia media che fanno di trattamento. Un trattamento di questo tipo in Italia sono 50.000. Non esiste un franchising che ha un ticket medio di 50.000. Noi siamo un tipo di struttura che ha quel ticket medio, ma perché siamo una struttura specialistica, che facciamo solo questi tipi ricostruttive. Ma per questi tipi ricostruttive ci sono alcune strutture che non sono attrezzate. Perché per questi tipi di ricostruttive, arrivare magari a quel lavoro là che avete, la linea superior, serve innanzitutto una diagnosi seria corretta, poi servono attrezzature, laboratorio, e in più fatti all'estero servono tutti questi parametri che per anni avevo raccolto.